Ciao E' 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 E 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 L'ascensore è qua Piano primo interrato Ok L'ascensore scende Secondo piano interrato E 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 Prossima fermata Nexto La Marmora La Marmora E 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